È un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante e quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono un po' nei miei pensieri eccetera, cioè faccio quel che posso, cerco di fare sempre quel che posso e a volte sono più in up e a volte sono più in down e non so, penso sia giusto anche farvi vedere questa parte, cioè non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male, però penso sia giusto che non fingere che tutto vada bene, che io sia felice come una Pasqua e forte, a volte vorrei essere meno forte, essere solo un po' più serena appunto. Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati a Luna Park, che è una delle attività che mi piace fare di più con loro, portarli al parco o sul trenino, così ho Luna Park e non so, è stato bellissimo il momento in cui li ho visti, veramente in questi momenti essere genitore ti salva un po' la vita.